L'associazione Time Limits di Liberi continua a mietere successi. Gerda Park, 22 anni, che qui vediamo in acqua, ha vinto il campionato nazionale Estone dei 200 farfalla con un tempo di 2.22.00 la scorsa domenica a Tallinn. La soddisfazione del team della stessa campionessa, alla quale abbiamo strappato solo qualche battuta, anche per qualche difficoltà linguistica. E poi abbiamo sentito l'allenatore Andrea Sabino, intervistato da Davide Sabino. Gerda, ti aspettavi di vincere i campionati Estone dei 200 farfalla? Sì, me lo aspettavo. Come ti trovi in Italia? Ti piace stare in Italia? Sì, mi piace stare in Italia. Adesso l'allenatore. Andrea, quali sono gli obiettivi futuri e i prossimi appuntamenti che avrai con tutta la squadra, in particolare con Gerda Park, campionessa Estone? Adesso è appena rientrata Gerda. Abbiamo 3-4 giorni di recupero post campionati Estone, poi partiamo per un collegiale in Puglia a Casarano. Utilizzeremo tutti i giorni per allenarci il più possibile e per provare di nuovo a scendere in vasca e migliorare i suoi tempi. Lei è arrivata qui tre mesi fa. Il tempo per allenarsi è stato poco. Abbiamo provato a trovare una condizione migliore possibile per poter vincere il titolo. Ce l'abbiamo fatta. Adesso per il futuro l'importante sono i tempi. Provare a fare il record nazionale Estone che per lei è molto molto importante e anche per la sua nazione. E eventualmente riuscire a strappare il pass per una competizione internazionale più importante, quale un europeo o un mondiale. Da Castel di Sanso è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it